Direi di risolvere prima il compitino che vi ho lasciato, è più contenuto, più facilmente comprensibile dei potenziamenti che poi andremo a fare sulla funzione del messaggio. Trovare il massimo tra due numeri. Ho scelto tra numeri double, così possiamo gestire qualunque situazione, però va benissimo se avete scelto il tipo int. Max tra due numeri double. La funzione riceve perciò i due numeri double. Le due espressioni, anzi, meglio dire, double. Le confronta, beh, questo è banale. Se A è maggiore o uguale di B, il valore più grande è A. E fosse uguale potremmo anche dire B, ma così va bene. Altrimenti, l'espressione valore più grande, il numero più grande è B. Facile, facile. Un'osservazione importante. Tutti i possibili percorsi di esecuzione nelle istruzioni di una funzione devono portare a un return se la funzione restisce un valore. Cioè, se ci fosse l'if come adesso, con il suo return, ma l'else non avesse return, ci verrebbe segnalato, appunto, che non tutti i percorsi, passassimo per l'else, portano a un return come dovrebbe essere. Per la versione che deve farlo con tre espressioni, vi propongo due varianti. La prima, smart, ma più lenta. Poi vi dico anche perché è più lenta. È certamente più breve. È più facile da scrivere. E sfrutta questa qua. Come faccio a trovare il più grande tra N1, N2 e N3? Beh, intanto guardiamo chi è il più grande tra i primi due. E lo posso fare sfruttando questa, no? Ce l'ho già. Una funzione che mi dice qual è il più grande tra due. Mi salvo nella variabile temporanea, temp, il più grande tra N1 e N2. Adesso confronto questo temp con N3. Temp contiene infatti già il più grande tra N1 e N2. Non mi rimane che confrontare questo risultato con la N3. Non l'ho fatto perché è di più difficile lettura, ma avrei potuto tranquillamente fare tutto con un unico return. Cioè senza questo, emettendo l'espressione che prima si memorizzava in temp, direttamente come primo parametro per la chiamata max tra due. Prima di chiamare la max tra due più esterna, avrebbe calcolato il suo primo parametro, max tra due, N1 e N2. Il valore più grande tra N1 e N2 sarebbe stato inviato come primo parametro insieme a N3 alla chiamata più esterna di max tra due. È una funzione che ha come suo parametro un'altra chiamata funzione, che, caso curioso, è ancora la stessa funzione. E sono sicuri che molti di voi apprezzeranno la versione invece che lo fa in due step. Prima il più grande tra i primi due, e poi tra quello e il terzo. E allora vi lascio tutte e due. Perché questa è più lenta? Perché ogni volta che si fa una chiamata di funzione si perde un po' di tempo. È pesante a livello computazionale fare una chiamata di funzione. Ecco perché, forse più complicata da capire, ma non più di tanto, questa versione esaurisce il suo compito con una sola chiamata di funzione invece di 3, contando anche la funzione stessa. Controlla prima se, per caso, n1, la prima espressione, è più grande sia dalla seconda sia dalla terza. And. Se è così, vuol dire che il valore più grande è quello memorizzato in n1. Altrimenti vuol dire che è o n2 o n3. Else, confrontiamo allora n2 e n3. Se n2 è maggiore o uguale a n3 è n2. Altrimenti n3. Interessante anche il modo con cui le ho testate. Per 20 volte ho fatto scegliere 3 valori a caso, memorizzati nelle variabili n1, n2 e n3. Gli ho stampati. Poi ho fatto determinare il massimo tra i primi due e l'ho stampato così, occhio, vediamo se è giusto. Poi il massimo tra tutti i tre, chiamando la versione A della max tra tre. E infine la stessa cosa chiamando la versione B. E questa è semplicemente una cornicetta che fa da separatore. Proviamo. Naturalmente non è la dimostrazione che gli algoritmi sono corretti. Perché potrebbe essere casualmente giusto per mille risultati, poi sbagliare su mille e uno. Ma è una prova ragionevole. I primi tre numeri, il max dei primi due è giusto e il max tra tutti e tre pure. Ed è uguale al risultato computato dalle due versioni del max tra tre. Ok anche per la seconda terna. La terza terna. Va bene che è anche il caso particolare in cui è il secondo numero ad essere il maggiore. Viene individuato da tutti e tre. E qua abbiamo il caso in cui è il terzo ad essere il maggiore. Tra i primi due è il 24.000 tra tutti e tre. Benissimo. A occhio ci siamo. Benissimo. Tempo di ritornare alla funzione dell'esercizio precedente. C'è ancora molto spazio infatti per i miglioramenti e cominciamo con delle osservazioni. È molto importante che una funzione a meno che come questa abbia come obiettivo principale la sua ragione di esistere una stampa con Cout eccetera come potrebbe diversamente non usare Cout non dovrebbe mai una funzione fare input di dati con lo stream CIN di input o output stampe con lo stream di output Cout. E perché? Non è che tecnicamente non potrebbe funzionare ma pensate questa situazione. È tipica questa tentazione per i principianti. Vi si chiede di fare una funzione non so che calcola boh la radice quadrata e come se l'obiettivo principale fosse quello semplicemente di vedere sul video il suo valore. Per cui nella funzione qualche Cout qua e là. Ma se questa funzioncina dovesse poi essere utilizzata in un'altra che fa dei calcoli cosa cavolo servono quei Cout come potrebbe un frullatore con il programma che utilizza internamente una funzione matematica assolvere, eseguire quel Cout di qualcosa o un orologio o un chip messo a controllare il sistema di frenata di un pneumatico non ha senso. Allora la funzione esiste per il suo scopo principale è un calcolo ok termina dandomi il risultato di quel calcolo cosa poi il chiamante il main vorrà farsene di quel valore non ce ne può fregare di meno dal punto di vista della funzione. Il main lo stamperà magari no se i valori fatti calcolare devono essere registrati su un file potrebbe neanche esserci il monitor come farebbe poi a funzionare il Cout se ci fosse nella funzione. E poi andremo a sporcare lo schermo in momenti in cui non è previsto calcolo salvo su disco calcolo invio un messaggio per mail vado a caricare i dati su un sito web e cose ci azzeccano a quel punto quei Cout che avremmo messo oppure ci fosse un CIN ancora più ridicolo cioè cosa succede? Mentre il sistema automatico sull'auto inizia la frenata gli chiede qualche cosa a cosa? Col volante? Come farebbe a effettuare il CIN quel codice in un frullatore di nuovo o su un orologio non avrebbe senso ricordatevi quindi questa regola generale le funzioni non devono mai usare CIN o COUT a meno che il loro scopo primario sia stampare qualcosa sul video come messaggio ovviamente o leggere qualcosa da tastiera potremmo lo faremo scrivere una funzione che gestisce tutte le operazioni di lettura di un valore intero da tastiera e come potrebbe fare se non usando poi il CIN ovvio facendo i controlli non so che sia tra 0 e 100 tra 1 e 18 e con i messaggi d'errore e facendo ripetere l'inserimento tutte le cose che stiamo ricodificando e ricodificando e ricodificando da mesi sempre uguali beh ci scriveremo una bella funzioncina una volta per tutte tipo leggi intero i parametri previsti e non ci penseremo più mi sa che poi non avevamo ancora provato la funzione ecco rimediato il 90% delle volte come parametro troveremo un valore secco come questo oppure l'indicazione di una semplice variabile d'accordo ma pensiamo fin da subito al caso più generale capito spero il concetto generale proviamo a migliorare a rendere più flessibile questa funzione sinceramente solo per la stampa di un messaggio così avrei anche evitato di scriverla i nostri messaggi li vogliamo in modo professionale presentare sul video con una cornicetta tipo all'interno di un rettangolo non volendo disturbare il motore grafico ci accontenteremo di una cornicetta fatta da caratteri potremmo usare dei trattini potremmo usare degli asterischi usiamo l'asterisco versione 1.1 della nostra funzione prima del messaggio immaginate un rettangolo intorno al messaggio il lato superiore fatto tutto da asterischi possiamo usare il costruttore delle stringhe per dire voglio 40 asterischi qua c'è una virgola non un punto e andiamo a capo andiamo subito a incollare sotto perché diventa il lato inferiore del rettangolo adesso commento queste e vediamo subito un po' com'è che sta evolvendo la cosa va bene adesso occupiamoci di chiudere il rettangolo con l'asterisco prima della c e quello in fondo già così potrebbe essere un'idea però di solito si vuole centrare il messaggio all'interno del suo box dobbiamo calcolare in base a quanto è lungo il messaggio quanti spazi avanzano tutti questi qui e quanti sono beh sono 40 che è il numero degli asterischi meno quanto è lungo la stringa meno 2 perché l'asterisco qui all'inizio e l'asterisco in fondo contano appunto come due caratteri il resto sono spazi metà dovrò metterli prima della c e poi l'altra metà dopo il punto esclamativo per chiudere poi in fondo appunto con l'asterisco dobbiamo fare due conticini vi state un filino perdendo meglio significa che una volta che avremo faticosamente fatto questi calcoli e stampata per bene la cornicetta non ci penseremo più avendo la funzione senza la funzione tutte le volte dovremmo star lì a ripensare a codificare a prendere il codice scritto da qualche parte chissà dove in mezzo a migliaia di righe di codice ah ecco questo qua la cornicetta copia incolla e intanto incollando andremo a duplicare il codice cento volte state scrivendo un messaggio in quel programmino cento volte andreste a scrivere quel codice qui in un punto bello preciso facilmente localizzabile cercando il nome della funzione avremo una volta sola quelle 50 righe testate perfettamente un anno fa non ci preoccuperemo più di farlo ci godremo solo il servizio fornito dalla funzione richiamandola e poi eventualmente rendendola disponibile molto facilmente in modo chirurgico in mille altri progetti senza funzioni non diventerete mai sviluppatori allora abbiamo detto beh che qui andiamo colpo sicuro perché prima del messaggio sulla riga del messaggio il primo carattere deve essere un asterisco e ok non ci scappa non vado a capo perché devo ancora scrivere il messaggio ma prima devo mettere un po' di spazi quanti sono gli spazi calcoliamolo qua così ho la possibilità di dirvi che all'interno di una funzione non è un problema anzi è auspicabile dichiarare al suo interno le variabili che servono per i suoi calcoli i suoi conti i suoi passaggi intermedi perché le variabili questa variabile in particolare spazi nasce in questo punto e muore quando la funzione termina voi direte ma morire non è mai una bella cosa in questo caso si perché il programmatore quando arriva qui non deve andare a cercare da qualche altra parte dov'è che è stata dichiarata la variabile spazi o peggio se avessimo messo una variabile lo si può fare ma è da evitare potremmo anche potuto mettere qui la variabile spazi int spazi e qua senza dichiararla usare quella esterna pericolosissimo perché poi se sposto la funzione da un'altra parte non è detto che in un altro progetto ci sia questa variabile questa variabile magari utilizzata anche dal main e chissà come e il main non sa come utilizzerà la variabile spazi le funzioni che richiama bruttissimo le variabili locali in una funzione sono private e non vanno a interferire con le altre che potremmo avere nel main che anche lui potrà avere il suo int spazi bene questo spazi ha lo stesso nome ma è una variabile diversa da questo spazi il main se la userà per come vuole lui la stessa cosa potrà fare messaggio qui è meno probabile ma pensate è una variabile chiamata totale potrà ben esserci una funzione mille funzioni che internamente si calcano dei totali e viene spontaneo oppure una i per un ciclo un cont per un ciclo cavolo se il cont dichiarato qui fosse lo stesso cont dichiarato qua quando poi ci chiamiamo a vicenda un casino penso di avervi convinto qual è la formuletta che calcola gli spazi abbiamo detto 40 sono tutte le posizioni in orizzontale devo togliere da questo 40 quanto è lunga la stringa che stiamo per stampare msg punto length meno l'asterisco a inizio riga e quello a fine riga gli spazi totali ora calcoliamo quanti spazi mettere prima di msg e quanti dopo spazi prima sono la metà attenzione però metà se gli spazi che avanzano fossero numero pari 18 perfetto 9 spazi prima poi messaggio 9 spazi dopo e chiudiamo la riga ma se 19 sono dispari allora è impossibile centrare in modo perfetto la stringa sarà quasi centrata perfettamente gli spazi prima sono la metà calcolata con la divisione che esclude i decimali fosse 19 calcolando spazi diviso 2 ve lo scrivo come commento 19 risultato avremmo 9 spazi 9 spazi prima il virgola 5 si perde però lo recuperiamo con gli spazi dopo insomma quando sono dispari o uno spazio in più prima o uno spazio in più dopo dobbiamo metterlo io sto scegliendo di mettere lo spazio in più dopo infatti spazi dopo e sto spezzando con più variabili per rendere più chiaro il procedimento del calcolo avrei anche potuto farlo direttamente nel cout con una formuletta spazi dopo sono gli spazi meno quelli che ho già utilizzato prima spazi dopo sono il totale degli spazi meno quanti spazi abbiamo messo prima prima del messaggio abbiamo detto e lo sposto qui perché è più chiaro quindi inizio riga con l'asterisco poi una stringa fatta da questo numero di spazi prima ma devo dirlo che è un spazio così il messaggio poi ancora una stringa fatta da spazi dopo spazi ci vuole per lo spazio questo non sarebbe nulla questo è uno spazio e in fondo l'asterisco che chiude non dimentichiamocelo e poi a capo vediamo se ho commesso qualche errore qui ho dimenticato qua una parentesi qui la vecchiaia e qua questo sembra ok io direi che è già un buon risultato per una funzione se no tutte le volte auguri a rifare beh ho detto prima quali sono le controindicazioni non rifare il calcolo oppure fare copia incolla funziona sì una volta fatta non ci pensiamo più direi che ci possiamo fermare ma voglio lasciarvi come al solito un po' di compito potenziare la funzione io non voglio avere questo 40 fisso voglio decidere io di volta in volta aggiungere allora un parametro per poter scegliere la larghezza del box non solo aggiungere fattolo poi non tutti insieme altrimenti vi incasinate quando funziona bene il discorso ah ok voglio una cornicetta larga 20 larga 10 larga 100 aggiungete la possibilità è sempre un altro parametro eh di scegliere il simbolo o meglio il carattere dai carattere per la cornicetta così potremo personalizzare i messaggi a seconda loro tipologia i messaggi d'errore potremmo usare dei punti esclamativi quelli tranquilli dei trattini o degli asterischi infine poter regolare l'altezza del box cioè prima della riga del messaggio avere un certo numero di righe vuote e la stessa cosa sotto insomma il box che deve essere un po' più alto e la scritta che rimarrà comunque sempre centrata nel box a risentirci